Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni va nella direzione giusta. Chi è che dice queste parole? Chi è quell'uomo che si vede nell'immagine di copertina? Nicola Latorre, ex parlamentare del PD, elogia le mosse di Giorgia Meloni sul tema dell'immigrazione. Dice, l'accordo con la Tunisia e l'idea di un nuovo piano Mattei vanno nella giusta direzione e sono un ingrediente importante di una più ampia strategia di governo del fenomeno. E poi aggiunge, sono accordi cui devono seguire impegni concreti sia in termini di investimenti sia in termini di protagonismo politico-diplomatico. Siamo tutti d'accordo che gli accordi con la Tunisia e con la Libia non sono sbagliati, o meglio, nel PD invece la pensano diversamente. La Schlein pensa che fare accordi con la Tunisia e con la Libia sia qualcosa di mostruoso perché sono dei paesi dove la democrazia non c'è o se c'è non si vede, allora non puoi fare accordi con paesi del genere. Beh, vogliamo fare anche un discorso sulla democraticità dei partiti di sinistra italiano. Insomma, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, gli accordi con la Tunisia e con la Libia vanno bene, il piano Mattei va bene, ma sono delle cose... È un po' come quando si dice che bisogna cambiare la mentalità. Cambiare la mentalità di un popolo. Ma ci vogliono decenni e chissà quanti decenni. Quindi l'accordo con la Tunisia, l'idea di un piano Mattei va bene, ma sono quelle cose che possono andare avanti per 100-200 anni. Intanto gli arrivo dei clandestini ogni ora, ogni mezz'ora. Che facciamo? Cioè, mentre c'è l'accordo con la Tunisia e il piano Mattei bisogna anche fare delle cose diverse. È un po' come dire, Caivano, queste zone un po' abbandonate del paese, Caivano ci vuole... Bisogna cambiare la cultura. Adesso cambieremo la cultura. Vabbè. Intanto nell'immediato cosa fai? Nell'immediato intanto mandi l'esercito, metti telecamere, tutte le cose diroccate le tiri giù e fai un prato, così eviti i posti dove la gente si può nascondere. Quindi, mentre fai le cose idealiste, ah sì, devi anche fare delle cose concreti. Quindi va benissimo l'accordo con la Tunisia, va benissimo il piano Mattei, vanno nella giusta direzione, ma devono essere affiancate da qualcosa di concreto per l'immediato. Piano Mattei, bene, però intanto mi fai il blocco navale in accordo con la Tunisia. Devi fare anche delle cose concrete. Sì, il governo gli sta mandando insieme all'Europa, sta mandando motovedette, nuove da dargli, radar, quindi li sta mettendo in condizioni di poter fermare davvero le partenze, ma il punto è che una parte di quelle autorità non vuole fermare le partenze per il fatto semplice che molte autorità locali, non sappiamo esattamente a quale livello, sono corrotte e prendono soldi dai trafficanti per non vedere le partenze. Quindi, per far sì che questi funzionari corrotti non vedano le partenze e blocchino le partenze, tu gli devi dare più soldi di quelli che loro prendono dai trafficanti, in modo che cambiano completamente. Ecco, naturalmente qualcuno dice ma mica puoi, un governo mica può andare in giro per il mondo a corrompere la gente. ufficialmente i governi queste cose non le fanno, ma dietro le quinte lo fanno, quindi di facciata nessun governo ti dice che va a corrompere dei funzionari per evitare le partenze, poi magari lo fanno di nascosto senza dire niente a nessuno. Non sembrerebbe che questo stia avvenendo di nascosto in Italia perché comunque stiamo assistendo al record delle partenze dalla Tunisia. Quindi, dopo gli famosi accordi con la Tunisia, dell'Europa, con Meloni, il piano Mattei, eccetera, eccetera, da lì in poi c'è stato il record delle partenze dalla Tunisia. Quindi, naturalmente c'è chi dice ma potevano essere peggio? Ecco, il fatto è che potevano essere peggio, cioè potevano arrivare più persone, ci potevano essere più sbarchi. Quindi sta funzionando. Chi lo sa se sta funzionando? Sta di fatto che c'è il record di sbarchi. E poi parla dell'atteggiamento, il pidino dell'Unione Europea. Dice che l'Unione Europea ora predica molto meglio che nel recente passato, ma poi nei fatti continua a non apparire conseguente. Un punto importante è quello della distribuzione dei migranti sul territorio. Solo una politica di accoglienza diffusa e sostenibile è indispensabile inquadrarla in un impianto nazionale che fissi proporzionalmente i limiti nella distribuzione tra le diverse realtà territoriali. Spalmare equamente gli accolti su tutto il territorio nazionale evita concentrazioni che rendono impossibile un'adeguata politica di integrazione pongono un serio problema di sicurezza. Quindi se non c'è integrazione c'è un serio problema di sicurezza. Ovviamente. Chiaramente. Quindi quello che dice il pidino è qualcosa di abbastanza condivisibile. Dice che l'Unione Europea oggi predica molto meglio. Cioè predica meglio, però poi non fa nulla. Ecco. Quindi l'Unione Europea ha imparato a fare il predicozzo più bello ma poi non fa niente e poi dice beh queste persone che arrivano devono essere integrate se no c'è un serio problema di sicurezza. Certo che l'integrazione è difficile perché se tu arrivi senza assolutamente niente niente studi non ne hai o se ce li hai non li puoi dimostrare non sai la lingua non hai niente non hai studi dimostrabili come si fa questa integrazione? Che fai in questa integrazione? Se non sai la lingua e non hai studi non puoi neanche accedere al mondo del lavoro o se accedi al mondo del lavoro sono quei lavori sottopagati in povertà e una persona che arriva senza documenti e nulla che fa un lavoro sottopagato dove va a vivere chi gli dà un affitto come fa a comprare una casa come fa ad aprire un conto corrente capite che l'integrazione realmente è quasi utopica c'è naturalmente chi si integra ma sono delle eccezioni dei casi rari e poi l'ex PD dice quello migratorio è un fenomeno strutturale che ci accompagnerà per molti anni non lo si governa mutando le politiche con la stessa frequenza con cui mutano gli scenari politici in questi anni salvo la parentesi tentata da Minniti i protagonisti delle scelte si sono preoccupati più delle ricadute elettorali che di un efficace governo del problema eh già grazie a tutti e arrivederci a presto